Avevo un nome, lo conoscevo dappertutto anche all'estero. Era nato per la gastronomia, era nato per la ristorazione. Giorgio Fini è stato quello che ha iniziato l'attività. Davo l'impressione di essere super, un animo buio. Devo tanto a Fini, tanto da un'umanità. Orgogliosi come eravamo, almeno da parte mia, penso anche loro, di dire dove lavori da Fini, lo dicevamo con una soddisfazione. Grazie a tutti.